Buongiorno da Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV, l'appuntamento quotidiano che apre gli spazi informativi dell'emittente che guardate in questo momento e noi adesso prima di però sfogliare i giornali, guardiamoci il Santo del Giorno e poi le previsioni del tempo, giovedì 16 luglio la Chiesa osserva la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il sole è sorto alle 5.40 e tramonterà alle 20.48, guardiamo le previsioni del tempo dalla nostra centralina, dal nostro osservatorio meteorologico che ci rimanda una temperatura di 25 gradi e un'umidità impegnativa all'80%, quindi vedete che il percepito è di 2 gradi superiore a quello che è la temperatura reale e per oggi sarà ahimè un'altra giornata impegnativa dal punto di vista delle temperature che si presenteranno intorno ai 31 gradi, insomma quindi alle ore 14, quindi insomma temperature impegnative anche per oggi, vediamo però il cielo si presenta in questo modo, bello terzo senza nubi all'orizzonte, vediamo l'evoluzione che ci propongono da Ancona la protezione civile, il cielo inizialmente sereno con aumento della copertura fino a forme cumuliformi nel settore però montano e collinare, nel pomeriggio ritorno al cielo sereno, le precipitazioni sono presenti però come vedete nella cartina tutte sul settore appenninico e quindi nel settore collinare si sposteranno nel corso del pomeriggio, vediamo per quello che rappresenta l'ingresso nel weekend domani venerdì, vedete il cielo sulla costa è completamente sgombro dalle nuvole, nuvole qualche cosa è presente sul crinale appenninico e quindi breve e possibili isolati rovesci nel pomeriggio però sempre in quella zona le temperature sono anche vedete qui in aumento. Sabato quindi primo giorno del weekend, cielo sereno la fa da padrona su tutta la regione, al massimo poco nuvoloso, nessuna precipitazione anche qui però le temperature sono in aumento quindi andiamo incontro a un bel weekend però le temperature sono ancora molto alte quindi attenzione a questo aspetto di questa parte dell'anno soprattutto in questo periodo che riguarda il mese di luglio ma anche d'agosto avremo temperature impegnative quindi ore centrali soprattutto le persone anziane e i bambini prestino attenzione soprattutto anche agli aspetti della disidratazione. Guardiamo i giornali apriamo con l'incidente mortale che è costato la vita a un giovane centauro e nel resto del Carlino strada di sangue in primo piano la matta onda contro l'albero per un giovane padre è stata la fine, si chiamava Giacomo Aureli era di Villa Fastigi e si è scontrato, si è schiantato sull'ardizio contro un albero che non gli ha lasciato scampo tradito dalla velocità, i testimoni lo avrebbero visto sfrecciare e la visibilità in quel punto è molto scarsa. C'è anche in questa pagina una carta d'identità su questo ragazzo, chi era, cosa faceva, i suoi hobby. Ancora dalle pagine del resto del Carlino oggi è una giornata importante per quello che è il processo che da sempre focalizza l'attenzione dei media anche nazionali sulla città di Fano, ossia il delitto ferri. Non è stato Sabano a sparare, nessuna prova forte contro di lui, parla l'avvocato Franchi, chi è stato non lo so, a questo pensi il PM. Oggi appunto la sentenza prevista folla di amici di Andrea che verranno in aula con tanto di magliette. Il legale di Bari dice Karim non era a conoscenza del fatto che il Macedone volesse uccidere Andrea. Pagina sempre che riguarda peso del resto del Carlino, quindi vi dicevo le temperature si presentano elevate per questo weekend, quindi c'è allerta e sarà un fine settimana di fuoco sul San Bartolo. È allerta incendi, il termometro forse oltre i 37 gradi, non piove. Da 22 giorni il colle è controllato da una task force di volontari e di polizia, perché insomma il rischio di incendi è alto in queste occasioni, soprattutto con queste temperature così elevate. Cronaca trova un borsello, lo prende, una famiglia intera e scrocca pure le telefonate. Sono stati denunciati, indagano i carabinieri di Borgo. Il fatto è accaduto pochi giorni fa all'Iper Rossini e poi, tentata rapina in Baia, il GIP ordina i domiciliari, aggredirono un venditore. La pagina di Fano del resto del Carlino, focalizzata tutta sull'indagine della Guardia di Finanza, che riguarda due aziende, una del nostro territorio e l'altra della Ferretti, quindi della Limitrofa Romagna, yacht e fatture, quella rotta proibita che univa la CAM alla Ferretti S.p.A., accuse fiscali anche ai vertici dell'azienda romagnola. Poi in basso la Fano dei Cesarini, un appuntamento che si presenta per la terza volta nell'estate fanese, corsa delle bighette, tanto amata da grandi e da piccini. Vedete qui un momento delle passate edizioni, vedete la bighetta è questa, l'auriga è il bambino e i genitori sono i cavalli trainanti, quindi insomma un bel aspetto. Domenica pomeriggio, se volete andare a Sant'Orso, assisterete a questo spettacolo di Romanità anche con spazi didattici. Altra pagina di Fano, un altro aspetto, oltre a quello della Fano dei Cesari, trainante per le nostre estate, è stata sempre il Carnevale. E allora, due note sul Carnevale pesarese, la burla pesarese fa arrabbiare i carristi fanesi, Cecchini, il presidente della Carnevalesca dice un errore trascurare la promozione estiva, come contraltare però gli fa da contraltare appunto Berardi, il professor Berardi che di Carnevale se ne occupa da tantissimo tempo, dice quello che conta è solo quello invernale, gli altri sono solo trovate commerciali. Poi in testa di pagina la politica, Fratelli d'Italia contro la proposta di progetto Fano, parla Alessandro Sandroni, portavoce di Fratelli d'Italia, dice il centrodestra ora non sa più da dove ripartire, però è Fratelli d'Italia, alleanza nazionale, il punto di ripartenza del centrodestra fanese. Cambiamo testata, andiamo nella testata del Corriere Adriatico, la pagina di Pesero, anche qui lo schianto che è costato la vita al pesarese Giacomo Aureli, ha perso il controllo della sua onda e quindi non c'è stato nulla da fare. Anche qui processo indiziario, assolvete questi due ragazzi, così le difese hanno replicato alla richiesta di pesanti condanne da parte del PM. L'avvocato Franchi è vehemente e dice restano dei dubbi. L'altra pagina che riguarda Pesero, sempre del Corriere Adriatico, l'infortunio è accaduto all'ospedale di Fossombrone ieri, dopo un esame, un ragazzo ha un malore e cade e picchia pesantemente la testa al pavimento. Forse non aveva smaltito del tutto la sedazione, però è stato trasportato in eliambulanza ad Ancona e quindi le sue condizioni erano sicuramente preoccupanti. Ancora dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano, la vicenda delle multe e di quello che è avvenuto, lo show che è avvenuto in comune durante la seduta di giunta, show in consiglio di Santorelli che sfoggia lo slogan, no multa, no party, no party, seri, in parte gli dà ragione, troppe multe, così spaventate i turisti, il rischio che ci si accanisca e che quindi una giornata di sole e di rilassamento diventi una giornata poco piacevole. Finito contro una cabina dell'Enel è un incidente che si è verificato la giornata di ieri, grave un giovane fanese che è stato coinvolto in questo episodio. La politica anche c'è nelle pagine del Corriere Adriatico e la questione in esame è quella dell'ambito 6, seri, nessun falso nell'atto di nomina, replica così a Fano 5 Stelle, Sonia Biattistini era uscita al momento della discussione e Baldelli, il sindaco di Pergola, lo conferma. E quindi adesso cambiamo la testata, andiamo nell'ultima che osserviamo tutti i giorni, il messaggero, guardiamo anche quella che è l'attività della nuova giunta regionale Ceriscioli in testa, il nuovo corso, Ceriscioli, le mie scelte insieme ai sindaci e a un supermanager, vedete lo ritraggono in questa foto in un pulmino con la giunta all'interno e faranno delle sedute di giunta per tutta la regione, in ogni città, quindi vuole condividere con i sindaci delle città le sue decisioni, quindi una giunta itinerante, lo aveva annunciato nella conferenza stampa ad Ancona di presentazione proprio delle nomine, il nuovo corso è questo, nell'assemblea di Ripa Transone, sono andati a Ripa Transone, annunciato un dirigente capo alla guida tecnica dell'ente, questa è una rivoluzione, una rivoluzione che riguarda proprio l'organizzazione amministrativa, la macchina amministrativa di Palazzo Raffaello, questo serve, è una novità assoluta e dice che questo serve per dare proprio il senso del nuovo corso, il tutto è avvenuto all'agriturist di Yuri Kek, il campione olimpico, intervenuti interventi mirati e condivisi, si parte dall'economia, l'economia è uno degli asset principali della campagna elettorale anche di Ceriscioli. Ancora troppi dubbi sul delitto, si riparla anche qui del processo Ferri, vanno assolti la difesa di Sabano, dice nessun testimone, lo ha visto sul luogo dell'omicidio, non si può dare l'ergastolo senza prove certe, i legali di Bari, chi ha sparato a Ferri, nutriva odio, è stata un'esecuzione, le posizioni vanno diversificate e quindi insomma la sentenza come vedete è attesa in serata. La parte civile chiede milioni di risarcimento e la vedova di Andrea passa in aula il suo compleanno. Marche Nord si parla di sanità, anche nel messaggero la CGL Stop dice ai tagli, quindi al sindaco la lista desiderata per Ceriscioli, precari stabilizzati, liste d'attesa ridotte e riequilibrio dei posti letto, queste le loro richieste. Intanto però a Pergola si nomina il primario di medicina, quindi una buona notizia perché se in un reparto viene nominato il primario vuol dire insomma che il reparto non è in odore di chiusura ma anzi l'ospedale, il nosocomio continua la sua attività, tutto vantaggio del territorio. Ultima pagina, quella di Fano del messaggero, anche qui ambito sociale, il duello prosegue e anche le multe, vedete la foto del consigliere Santorelli con la maglietta incriminata, non multa, non parti, la protesta si fa slogan, contravizzioni al Lido, in aula lo show di Santorelli e il sindaco Seri, gli incassi dei vigili sono aumentati solo di 5 mila euro, davvero non vedo tutto questo accanimento su questo aspetto. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevo per la rassegna stampa di oggi, un saluto ci va anche a quelli che ci seguono in replica nel corso della mattinata, questa sera occhio alla notizia alle 20.30 ma la rassegna stampa tornerà domani mattina alle 7.30. Nel corso della giornata, se vorrete rimanere aggiornati sulle news, il nostro sito e il nostro portale internet. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, è tutto, arrivederci a domani. Grazie. Grazie.